Il 31 ottobre, da anni ormai, è conosciuto per Halloween, la festa delle streghe. Il Livorno, assieme alla sua scuola calcio, ha deciso di festeggiare questo giorno particolare con un'originale iniziativa. I bambini si sono presentati al campo mascherati e truccati e hanno svolto l'allenamento in un terreno addobbato con ragnatele e sacchi piene di dolci, affinché potessero divertirsi in un clima fantasioso e magico. Il gioco era semplice. A seguito di una maledizione, tutti i bambini erano stati trasformati in dei mostri e l'unico modo per tornare ad essere umani era svolgere diversi esercizi, dalla corsa nei sacchi al tiro al bersaglio. Vincendo questi giochi, i bambini avrebbero potuto finalmente spezzare la tremenda maledizione. Un modo dunque molto originale e carino per festeggiare questa festa e per far diventire allo stesso tempo i ragazzi mentre si allenavano. da Stagno per Amaranta e con la madre.